Il Governo impugna la legge regionale sui trabocchi e recentemente approvata perché ritenuta incostituzionale in quanto alcune norme delle storiche macchine da pesca si pongono in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal Codice dei beni culturali del paesaggio. L'assessore regionale al turismo Mauro Febo non si scompone, pensa già alle modifiche necessarie, mentre Silvio Paolucci, capogruppo del PD Tuona, impugnata come purtroppo temevamo l'unica legge fatta dalla Giunta Lenta in sei mesi e lo sa Salvini che hanno impugnato la legge sui trabocchi dove sta per andare a fare un comizio. Un fulmine a Celsereno o c'era da aspettarselo? No, ce l'aspettavamo perché chiaramente è stata fatta una norma, come abbiamo anche detto in Consiglio, velocemente noi abbiamo la necessità di salvare la stagione che purtroppo a seguito delle elezioni, di altre situazioni, stava già partendo in ritardo. Lo abbiamo fatto, credo che abbiamo fatto una buona e ottima norma, è chiaro che ci voleva più tempo per poter ragionare anche con gli altri attori principali, credo che il problema sia esclusivamente quello, ma secondo me abbiamo tempo in modo di poterci tornare e quindi di poterla rettificare. Noi faremo le nostre osservazioni per cui la legge per il momento rimane attuale e quindi la stagione andrà avanti, i rabocchi rappresentano il simbolo della nostra costa, in questo momento addirittura della nostra regione e quindi abbiamo il dovere, come tutti, di tutelare quelle immagini, chiaramente senza fare nessun soppruso nei confronti né dei concorrenti, né della natura e né del mare. In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, anche per i comuni interessati però si pongono dei problemi. A Fossa Cesia, ad esempio, ci dice il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Cosa succede adesso? Per esempio il comune di Fossa Cesia nel Consiglio Comunale di ieri sera ha accolto quanto previsto dalla legge regionale impugnata, ovvero 160 metri la larghezza del trabocco con la parte dedicata alla ristorazione, cioè più 50 metri. Però devo dire che nei piani dei maniali comunali già ci sono previsioni di ampiezza del trabocco, quindi secondo me subentra una situazione molto confusa. Io mi auguro che il governo chiami la regione, con la regione lanci, per capire cosa si potrà fare in tempi brevi. Sempre stamattina l'assessore Febbo ha incontrato i sindaci dei comuni abruzzesi con la bandiera blu per presentare l'iniziativa di promozione sulle autostrade dove sarà posta una cartellonistica doc per invogliare i turisti a visitare i luoghi della nostra costa.